ecco ma ma siete nudi voi e non so come come si mettono le cose c'è il torso e the feet legs a vero eccoci qua op a posso cambiare il nome gamer boy ma abbiamo messo la stessa maglia esista questa br fatta di gomma detto che è diventata popolosa perché è diventata free to play si è diventata free to play io non la conosciamo già vediamo ragazzi vediamo f o e tu ma è un camion ah è vero che c'erano i camion sicari è vero che ci si lanciava così ma voi eravate nel camion prima attenzione così io ho preso un perro in faccia bastia che botta una balestra sono a balestra un uomo dove è andato non lo so vabbè andiamo in città eccolo dov'è l'ho ucciso uno bravo moro non ho visto un cacchio era lì ma sto nelle fresche frate che schifo ragazzi eh non è morto ma non sta a morire adesso è che dovrà morire occhio che esplode ma tu sei scemo hai tolto un botto di vita esplode ma è esploso ma mi è f for resurrect ma mi è stato ucciso ma non perché dovrei farlo scusa ma allora non si può uccidere ma sei buono marco tu che per carità ok è morto è morto è rubato c'è uno qua eccolo fa il giro qui morto ragazzi la cosa piccola cosa mi ha ucciso moro anche al fuoco amico ma io non ho colpi che armici che colpi ci vogliono per questa cosa anche che ok avete il dash ha un suonato e ho sentito con i miei eccolo lì la macchina spariamogli vuota non posso mirare io si può sparare solo uno scop non c'è la bici però non c'è la bici ma la bici grazie devo assolutamente venirti dietro spazio e sparano ma ci sparano i razzi date via date sotto lì scappa moro quando io con la mia bici non scop no scappate ma io sono dietro di te moro mi va a fuoco la bici no scendi moro niente qua da me ma noi siamo fuori safe comunque si e ci sta passando sopra al boi la robiamo oh è qua non lo colpi sono morto ma hanno dei mirini ero morto anch'io oh god ma guarda sono tutti c'hanno tutti i buff poi questi siamo morti sono caduti i muri dove siamo gli ezzar is this di aspetta forse forse è come il gulag sono saltato via cosa succede aiuto che succede anch'io sono diventato superman ah eravamo sul muro ma ma che sto facendo sono morto ti mannaggia è morto io voglio andare a nella neve marco dov'è questa qui va bene di solito trovati gran soldi ragazzi posso sparare i soldi ragazzi guarda marco stonks moro cosa fanno i soldi scusate unsuccessio c'è una bici ragazzi due dici prendiamo le biciclette e andremo a fare matteo il prete ai ti prego ma cm del prete il mio sogno da piccolo fare matteo va c'è a una testa volendo è la testa piripipi group d trip chiedezק è una gatling di unalove known gloni io Forse sto andando troppo da solo Sono morto C'è uno qui da me Ah perché bello c'è tirata Ma da fondo ragazzi Voglio capire questa cosa dopo la Dammi tutto pirla Pagliaccio dove sei? Non ti vedo non ti vedo dove sei? Ah ho capito Moro bisogna fare il percorso Ce l'ho fatta, level 1 complete Livello 3 completato amici Sono respawnato con un bonus infatti Ma vedi? Credo ci sia uno qui da me però Non è per niente una brutta cosa Sono uno che fa beatbox lo sento Ma è vero? Ma questa è la cosa arancione Ma è uno che fa beatbox per davvero? Ho ripreso la cattling Vado a prendere Marco L'ho ucciso Ci sparano ancora Da dove? Dietro L'ho ucciso Oh no Oddio Eri bruttissimo scusami Ma cosa che urlo era? No c'è questo S Ok ma dove dobbiamo trovare Moro prima la bici che fai? Scusami in giro nudi Mettimi il punto Moro Tu mettimi il punto ci penso io a portarti Posso salire nel cestello? Certo che puoi salire Vai Veramente nel cestello? E dove andiamo? Mettimi il punto a click per favore Eccolo vedi è proprio questo dove ho pingato Si vedo nella mappa Come hai fatto? Ah si vedo? Vedo nella mappa Marco Quindi per ore Vediamo se posso restare No lo devo fare io forse L'ho fatto io Ok ci sono Ma è caduto proprio subito No una A curse of slow medicine Liezer fai una roba C'è la bici qua sotto Marco Non ti preoccupare La bici non fa casino Effettivamente è una genialata La bici è la cosa più bella Liezer Eh ma quanto sono veloce però Ma sfrecciate tutti Sono rimasto quasi Eh ma in discesa Ma come prende Eh ragazzi Mi si incazza la catena Però così Ah Ho trovato un kit medico Qua Marco Caffettere di gatti Occhio occhio Che c'è un sacco di gente Vado Io sto andando addosso Se solo trovassi una strada Ma dove sono? È un po' ovunque Ma sei sotto Marco Tu L'ho ucciso Alciuno sul tetto là Dove sito? Sopra Marco Che sta per morire Sì Marco buttati tu Uno l'ho ucciso ragazzi Ma sei esploso in mille pezzi Ma come si fa col cecchino Non si può mirare col cecchino Ma no è impossibile Anche col mirino Sei vivo? Mi ha ucciso con una Mi ha ucciso con un'arma da mischia ragazzi Ma ho trovato un passaporto Sopra i facci del passaporto Amici arrivo Anzi no non mi muovo Una safe mi spinge Mi spinge rendendomi un pupazzo Ho ucciso un tizio Sono 6 kill però Fortissimo Eravamo 4 alive però Era l'ultima squadra Ma perché hai trovato un passaporto Me l'ave sostituito all'arma tra l'altro E io ho trovato i soldi Li potevo sparare così Andiamo all'area 60 quacchio Che non ci arriviamo Ma sti pinghetti Me li potrebbero fare più grossi però Dai uno sopra di me Uno sopra di me Arrivo gli azari Ma non lo girati moro Ma hanno fatto esplodere Ma siete stati voi? No ma questo può L'ho ucciso però Ma menchia Ma che armai è che spara dei laser 3 Che qui esplodono tutti Che ero mi sugli azar Mi la pinta Sono morto No E che è successo mo? Devi fare Curso fog Non ci vedo quindi Ah perché bisogna passare Prima che il muro si chiuda alla fine È finissima però sta cosa Vai 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 Ho preso il muro proprio all'ultimo Però per le porte C'è uno che fa beatbox Lo sento moro Sto aspettando Ma dov'è questo che fa beatbox? Ah è Ah minchia Sto fra i palazzi rovesciati Ma non è che sono io Sto arrivando No mi hanno ucciso Sono io che sto facendo beatbox Moro aspetta mi butto giù moro Ehi 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 Ok aspetta mi Aspetta mi moro Fermo lì Fermo lì moro Qua qua Ah moro sei tu Premi G dicono E perché fai il gangster con la G Giri l'arma Ma che brutto Che pelo Avevo uno di vita Ehi Credo di avere un bonus O non è il malus No adesso ho proprio un bonus Ma siamo fuori safe noi Non mi importa Liezer No nonostante questa battle royale Sia molto molto gommosa Io Ma che è qua Marco Corro la via La via omertosa Oh ma è mimmo Ma è tofazzi quello lì Ma la safe Merda Liezer la safe La safe Dov'è E' sopra di noi Ma non la vedo io Via Via Corro A me mi serve munizioni Mi serve tutto Liezer Ah Ha ucciso uno Devo ricaricare Devo ricaricare Ci trochę l'altro Ma non Andrere un altro Non so neanche come si cambia No sono morto Ci ha rubato la macchina Oh Pare che pensavo fosse davanti, penso un po' te ma Liezzar mi hai tolto tutta la... Marco, ho un kit medico, ti serve? buono, vieni qua fermo non mi sparavi fermo, no, fermo, fermo ma io non lo so ma a parte che ho bisogno di aiuto beccati questo grazie, molto gentile una bici, la mia vita che bella Liezzar, cantami la musica di Don Matteo non la so, io non l'ho mai visto non me la ricordo c'è solo sesso e violenza in tv ma finalmente il cristianesimo potrà aiutarti sì, fino hanno fatto i vecchi valori fai delle molte preghiere e Don Matteo è qui lui porrà di grarti ed appassionarti ed appassionarti con le sue avventure in più e anche in la bicicletta di Matteo il prete tiri di tiri di tiri di tiri di tiri una folla di cura Marco, mi prendi al volo che ho paura del buio certo arrivo, eh Liezzar? cos'è sta roba? è una piccola nuclear allora Marco, sono qua, eh vai visto, perfetto fantastico ti quattico a sempre sono dentro, Liezzar basta saltare un po' con maestria e si va ma c'è una macchina ribaltata attenti parano a destra andiamo verso di qua ah, porca miseria ogni volta ma ero stan eh, non lo so erano qua, qua, qua da me qua da me arrivo ma questo è un cecchino incredibile una balestra e arriva anche un veicolo questa è mia, ragazzi tanti veicoli è ancora lì, eh mi sono colpito vado io con la balestra, ragazzi ahahahahahahah cos'è? che bello! l'ho perfora... che paura l'ho perforato, ragazzi movement speed tutto voglio, tutto forse ho visto qualcuno là dentro eccolo, qualcuno là devo andare sopra provo andare ah, sono qui, eh sono qui Marco ahia sono morto, sono morto ma anche io ma come hanno fatto? scusami una granata? hanno tirato uno scappellone vedo, sei vivo tu? ci hanno tirato una granata? ma, non sono morto tiratemi su, è Mark che è vivo no, you are downed ecco me mi dovete tirar su, ragazzi non posso tirarvi su vado qua dietro non vi vedo a terra ma non ci può tirare su ma ma lascia è arrivato con un rampino e lascia questo ma scusami ma che vorrei dire? scusami è arrivato con un rampino tipo spider-man con un'ascia ho visto qualcuno spararsi verso il blu ci penso io ma non c'è niente sono sotto il blu è una cassa che è un airdrop gli ezzar allora? sta scendendo pian piano io lo vedo fermo è risalito adesso è sceso ho visto tutto ma è dalla libreria salite in macchina che c'è gente l'ho vista eh la sento pure venite fermati bro eh scusa vai 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 ci pensiamo a noi è lì a destra ma non lo so dai l'abbiamo un po' colpito mi serve la balestra mi ho messo un dot che lampeggia la balestra mi serve proiettili traccianti forse eh ma vabbè trovarlo qua qua è morto ah 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 scemo bagliaccio scemo scemo bagliaccio oh streghetta cos'era? ho trovato una macchina e combattenti laggiù usciamoli madonna mia usciamo questi scemi era troppo vicina la cartina l'hai tirata tu morto uno l'altro che è scappato non lo so arc vieni qua un attimo prendi questo e poi mira ma che armi questo eh uno l'ho abbattato ne ho abbattato un altro ne ho abbattato un altro ancora e ce l'ho due la ma cos'è sto di rigor ma scusami come non è morto mezz'ora che gli sparo oh ma non muore questo non muore mai non muore mai piezzar tirami su tirami su che uno l'ho ucciso fermo fermo ah che bello niente niente ce l'ho ucciso aspetta entratate quale la cura in caso e ce l'ho anch'io la cura qua da me sento un rumore brutto è la safe miamma è bella corri corri da che parte da macchina venite da me quanti siamo 19 alive ok fermati 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 madonna mia muore pusciamo questi qua no non usare quelli quelli da vicino sono tantissimi cos'era sta roba chiamma è bella vicini sono morto che l'ho cecchilato oh god ho solo ferito ho preso anche moro purtroppo faccio un botto di gente qua aspetta arrivo si ma non è un uomo quello ragazzi cosa fa va nel cielo ciao amico ciao io gli sparavo ragazzi ragazzi ma che è successo scusate qualcuno mi dia una spiegazione a quello che ho ve l'ha visto io jazzer per favore ho ucciso uno ce la fai mi hanno sparato stai fermo stai fermo ah scusa grazie no c'è uno da me mi sta continuando a sparare sono morto ma non posso rinascere ho ucciso ho ucciso famissimo mi servono delle armi c'ho il p90 ma jazzer non cacare dentro dentro ma è crollata la torre ma io ho perso la vita di nuovo ma chi mi sta sparando io ci sono lanciarazzi questo mi ammazza jazzer è la mia fine devi salire devi salire no aspetta stop anche un più sopra c'è adesso uno laggiù è scomparso da me adesso c'è gente tutta a sinistra sempre sotto ma nell'angolo e l'ho ucciso salta sopra qui puoi continuare a jumpare per salire come uno sceso no ma qua è troppo aperto ma secondo me ti sparavi vincevi tu questa barriera c'hai sono tutti sopra comunque quello è caduto morto o è caduto lì non lo so lo sento vicino spessia voglielo sentire jazzer non esplode niente è esploso tutto invece casino non si capiva benissimo amici questo era novel cuisine è Grazie a tutti.